Quindi io continuo a non essere d'accordo con la gran parte di quello che sento dire non me ne vogliano dai colleghi dell'opposizione, da molti colleghi dell'opposizione, su come si leggono le politiche europee. E vado alla questione delle nomine, delle competenze, dell'agenda strategica. Ribadisco quello che ho detto stamattina, vale la pena di tornarci su. Allo scorso Consiglio europeo io mi sono permessa di segnalare rispetto a come si apriva quella riunione, come si svolgeva quella riunione, una questione di merito e una questione di metodo che intendo tornare a sottoporre all'attenzione del Consiglio europeo e che volentieri sottopongo di nuovo anche a voi. La questione di merito è la seguente. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale nella quale tutte le forze politiche, tutte le forze politiche in Italia e probabilmente quasi tutte le forze politiche in Europa, dicevano che qualcosa va cambiato, che le cose non funzionano perfettamente, che vale la pena, insomma no, di raddrizzare, non lo so, con toni diversi ma tutti quanti abbiamo detto c'è qualcosa che va fatto. Perché? Perché tutti ci rendiamo conto che l'Europa sta perdendo di competitività, i dati che il senatore Barcaiuolo ricordava nel suo intervento e che io citavo questa mattina.